La Regione Lazio, nell'ambito dell'emergenza a maltempo prevista per le prossime 24-48 ore, ha allertato le proprie strutture operative per fronteggiare tutte le eventuali criticità che dovessero riscontrarsi sul territorio regionale. In particolare sono stati predisposti quantitativi di sale per supportare i comuni nell'eventuale difficoltà di gestione ordinaria della manutenzione stradale. Sono stati consegnati 88 bancali per 63 comuni interessanti. Nello specifico a Roma è provincia 24 bancali per 20 comuni, Viterbo è provincia 8 bancali per 8 comuni, Latina è provincia 12 bancali per 10 comuni, Frosinone è provincia 20 bancali per 13 comuni, Rieti è provincia 20 bancali per 12 comuni interessati. Sono stati inoltre consegnati 600 quintali di sale alla comunità del Velino nel comune di Posta. Sono state preallertate tutte le associazioni dotate di mezzi e d'attezzature per lo sgombero di neve per la salatura delle strati che potranno essere chiamate ad intervenire in caso di criticità. L'Agenzia regionale di protezione civile è infine in costante contatto con i comuni dell'area colpita dal terremoto. Si ricorda che la sala operativa permanente è attiva 24 ore su 24.